in questo video voglio presentarvi questo modellino di majorette lancia monte carlo si tratta del numero 285 scala 1,50 made in france la maggioretta prodotto era lancia monte carlo tra l'81 e l'87 e in particolare questa gialla è la versione dell'83 84 il first release quello prodotto nell'81 era identica a questa di colore rosso sempre con la decal laterale con scritto monte carlo diciamo che il restauro non si presenta particolarmente agevole perché la macchina è decisamente giocata a parte la vernice che è tutta scrostata ma questo non è assolutamente un problema i problemi principali sono questa parte anteriore in plastica che è decisamente rovinata e in particolare qua è saltato via un pezzo che andrà quindi ricostruito quasi se vedete quasi si apre già l'automobilina quindi primo punto complicato è ricostruire questa parte l'altro problema sono le ruote che sono decisamente danneggiate decisamente rovinate per questo bisognerà cercare delle ruote sostitutive la base non è male è piuttosto sporca in parte ossidata decisamente sporca comunque andrà ripulita tolta un po di ossidazione e poi lucidata però questo dovrebbe essere un problema relativo la cosa buona è che la macchina comunque ha una struttura sempre molto solida non è deformata e in alcun punto non ci sono parti rotte e soprattutto i trasparenti sono in ottimo stato in buono stato comunque soprattutto il sunroof qua di plastica che è un pezzo molto fragile in questo caso è assolutamente integro soltanto un po sporco un po graffiato ma si può si possono rimuovere i graffi si può lucidare e niente andiamo a vedere che cosa ne viene fuori dal restauro di questa maggiorette lancia monte carlo volevo fare un piccolo intermezzo prima di dimostrarvi il risultato finale per farvi vedere come stanno procedendo i lavori questa è la parte in plastica che era appunto rotta in questa in questo profilo anteriore che ho ricostruito utilizzando il bicarbonato di sodio la super colla e diciamo che è stato un lavoro soprattutto di limatura con la carta vetrata e adesso vado a ridipingerlo di nero per renderlo appunto uniforme ma prima di dipingerlo volevo farvi vedere come era venuta la ricostruzione un altro intermezzo perché qualcuno nei commenti dei video precedenti mi ha chiesto come faccio a fare le decal allora lasciatemi premettere che per fare le decal nel modo corretto è necessario avere una stampante laser e poi acquistare la carta per decal che peraltro è anche abbastanza costosa però in questo modo si possono riprodurre tutti i tipi di decal anche quelle abbastanza complesse se si cerca un'alternativa a basso costo soprattutto se si vuole fare un restauro di una macchinina che uno ha pagato un euro al mercatino delle pulci e non si vuole spendere troppo per restaurarla io ho pensato questa alternativa si prende della carta lucida questa che prendo io è la carta su cui prima erano appiccicate delle etichette adesive ho tolto le etichette ho usato le etichette mi è rimasto il la carta dove erano appiccicate le etichette che è abbastanza lucida la carta deve essere lucida ma non troppo lucida perché poi quando si vanno si va a stampare a mettere nella nella stampante e stamparci sopra la scritta la maggior parte delle scritte vengono sbavate la maggior parte vengono sbavate ma qualcuna viene decentemente quindi si selezionano si fanno tante copie si selezionano quelle venute bene non sbavate dopodiché io uso dello smalto per unghie dello smalto trasparente lo si spennella sopra e lo si lascia asciugare bisogna lasciarlo asciugare bene dopo di che con una lametta se la carta è sufficientemente lucida si può appunto separare il lo smalto dalla carta lo smalto solidificato della carta e questo cattura il colore e quindi resta un uno strato abbastanza sottile di smalto che ricorda abbastanza una decale non è proprio una decale perfetta però è un'alternativa diciamo a basso costo poi sempre con la lametta bisogna un po rifilarlo rifilare un po i bordi perché per adattarlo poi a l'automobilina vediamo un attimo il caso della montecarlo questo è sono delle decale che ho prodotto in questo modo e ho attaccato una cosa importante in questo caso io ho usato dello smalto per colore giallo per colorare la macchina quindi ho potuto applicare direttamente la decale alla macchina se si usano dei colori acrilici prima bisogna spruzzare della vernice trasparente opaca e dopo applicare la decale perché altrimenti si rischia di rovinare il colore questa alternativa è si può utilizzarla nel caso di decale abbastanza semplice questa è una scritta nera e quindi insomma è abbastanza semplice è chiaro che se si parla di disegni più complessi più complicati questa alternativa non funziona bene però in questo caso direi che il risultato è discreto ed ecco il risultato finale diciamo che la cosa di cui sono più soddisfatto di come è stato ricostruito questo profilo qua davanti che era completamente rotto e direi ve l'ho fatto vedere prima dopo che l'ho ricostruito con il bicarbonato di sodio e la super colla adesso l'ho ridipinto e direi che l'effetto è piuttosto buono mi sembra venuto decisamente bene considerando che mancava totalmente questo spigolo per il resto il restauro mi sembra ben fatto e il risultato finale mi sembra sicuramente buono grazie a tutti grazie a tutti